Siamo al punto di non ritorno, articolo del 24 maggio 2023, alluvioni un evento epocale mai accaduto prima nel paese. Avete capito quello che ha detto Piero, riferendomi a Mariana? Gocce grandi quanto bicchieri, ma con venti a 600 chilometri l'ora non è questione solo che porta via anche l'erba dalla terra, volano le macchine, volano le cose, quindi si scatenerà una situazione spaventosa, tutto diventerà proiettile. La vicepresidente Priolo in aula, 350 milioni di metri cubi d'acqua caduti in quei giorni. Ventitré fiumi esondati, mille frane, cento comuni coinvolti, 63 cantieri sui corsi d'acqua, chiuse tutte le rotte. Ho tolto un elenco che già feci vedere alla conferenza di Pescara, la trovate sul canale YouTube. Incredibile bomba d'acqua a Carbonia, la città sommersa dalla pioggia, Sardegna, tiesi, crollano i loculi al cimitero, fiumi d'acqua nelle case. Pochi giorni fa, macerata, bomba d'acqua e allagamenti causati dalla pioggia. Non era mai accaduto. Ogni scroscio di pioggia diventa una catastrofe perché strutturalmente le cose che abbiamo costruito li abbiamo costruite in relazione alla norma di prima dei fenomeni atmosferici. Se cambiano i fenomeni atmosferici nemmeno l'architettura regge. Quindi stiamo andando incontro a una situazione veramente drammatica. Ora, dov'è la speranza? Ci sono questi esseri che ci vogliono aiutare e che hanno le tecnologie per farlo senza nessun problema. Ma loro chiedono una sola cosa, dovete cambiare, vi dovete unire, dovete diventare parte attiva nella società. Non potete stare a guardare abbarbicati come la mosca sul vetro dell'automobile al vostro angolo di comfort perché verrà spazzato via il nostro angolo di comfort. Se voi, dicono gli extraterrestri, per volontà di Dio lo dicono perché loro ubbidiscono al Padre Eterno, se voi cambiate noi vi aiutiamo, anzi col nostro aiuto ci sarà nel futuro una grandiosa società umana che vivrà nella pace, nell'amore, nella fratellanza e soprattutto ingiustizia perché se non c'è giustizia non ci può essere amore, non ci può essere fratellanza, non ci può essere pace perché il nostro mondo così pieno di guerre, le guerre sono causate dalle ingiustizie. La cosa più folle è che le maggiori potenze spendono cifre spaventose in armi, in eserciti, in strutture per difendere i privilegi di pochi. Ma scusa, togliamo gli eserciti, distribuiamo, placchiamo le ingiustizie, nessuno ha voglia di fare guerra, tutti vogliamo vivere. Cosa vogliamo alla fine? Una casa, risorse, cibo, vestiti, cultura, stare bene. Ecco i potenti no, sono ammalati, loro devono comandare, si devono sentire divinità. Quindi per chi ha così tanti soldi che ce n'ha che non li consumerà manco in cento vite, il denaro è potere e basta. Vedete Soros, vedete Bill Gates, vedete Tesla di Elon Musk, vedete tutta sta gente, per loro il denaro non ha più la funzione come per noi di sopravvivere, comprarci la macchina, pagare le bollette. Per loro il denaro è meramente solo esercizio di potere sulla nostra pelle.